il loro viaggio fu interrotto un giorno in modo inatteso giunti in vicinanza ad un villaggio furono accolti da un gruppetto di contadini armati di randelli stanghi e correggiati il capo gridò loro da lontano di ritornare subito sui loro passi e di andarsene senza lasciarsi più vedere al diavolo altrimenti li avrebbero ammazzati mentre boccadoro si fermava desideroso di sapere cosa ci fosse un'assassata lo colpiva al petto si voltò in cerca di roberto ma questi se l'era data a gambe come un ossesso i contadini avanzavano minacciosi e a boccadoro non rimase altro da fare che seguire a passo più lento il fuggiasco roberto lo aspettava tremante sotto un crocefisso che sorgeva in mezzo alla campagna sei scappato come un eroe disse ridendo boccadoro ma che cos'hanno nei loro testoni quegli zotici se forse la guerra mettono guardie armate davanti al loro nido e non vogliono lasciare entrare nessuno mi fa meraviglia che cosa ci può essere sotto né l'uno né l'altro lo sapeva solo il mattino seguente in una masseria isolata fecero alcune esperienze e cominciarono a indovinare il mistero questa masseria composta di capanna stalla e granaio e circondata da cortile verdeggiante d'erba alta e con molti alberi da frutta giaceva stranamente silenziosa e addormentata non una voce umana non un passo non un grido di bimbo non un affilar di false nulla sudiva nella corte c'era sull'erba una mucca che mugiva si capiva che era ora di muncerla si avvicinarono alla casa bussarono alla porta non ottennero risposta andarono verso la stalla era aperta e vuota andarono al granaio sul cui tetto di paglia luccicava il sole e il musco verde chiaro anche là non trovarono anima viva ritornarono alla casa meravigliati e colpiti dalla desolata solitudine di quella dimora batterono ancora coi pugni contro la porta di nuovo nessuna risposta boccadoro provò ad aprire e trovò con stupore che la porta non era chiusa la spinse verso l'interno ed entrò nella stanza buia buongiorno grido forte non c'è nessuno ma tutto restò silenzioso roberto era rimasto davanti alla porta curioso boccadoro si inoltrò nella capanna c'era cattivo odore un odore strano e ripugnante il focolare era pieno di cenere egli vi soffiò dentro sul fondo nei ciocchi carbonizzati covavano ancora le scintille allora nella penombra vide qualcuno sul sedile di fondo del camino qualcuno era là seduto e dormiva pareva una vecchia gritare non serviva a nulla la casa sembrava incantata toccò amichevolmente sulla spalla la donna seduta ella non si mosse si accorse allora che era avvolta in una ragnatela coi fili in parte fissati ai capelli e alle ginocchia costai è morta pensò boccadoro con un lieve brivido e per convincersi si affacciò intorno al fuoco attizzò e soffiò finché si levò una fiamma ed egli poteva accendere una lunga scheggia di legno con questa illuminò il volto della donna seduta vide sotto i capelli grigi un cadaverico viso nero azzurrastro con un occhio aperto che luccicava vuoto e plumbeo la donna era morta lì seduta sulla seggiola non si poteva più soccorrerla con la scheggiardente in mano boccadoro continuò a cercare e nella stessa stanza sulla soglia che metteva nella camera posteriore trovò disteso un altro cadavere un ragazzo di forse otto o nove anni col volto gonfio e sfigurato vestito della sola camicia giaceva col ventre sulla traversa e le due mani facevano piccoli pugni stretti e dirati questo è il secondo pensò boccadoro come in un brutto sogno andò avanti nella retrocamera le imposte qui erano aperte e la luce del giorno entrava chiara egli spense con precauzione la sua fiaccola e calpestò le scintille sul pavimento c'erano tre letti uno era vuoto sotto il lenzuolo grigio e ruvido spuntava la paglia nel secondo era disteso un altro corpo un uomo con la barba rigido sul dorso con la testa appoggiata indietro e il mento e la barba volte all'insù doveva essere un contadino il suo viso infossato riduceva a scialbo nei colori inconsueti della morte un braccio pendeva fino a terra dove giaceva rovesciata una brocca di terra cotta l'acqua sparsa non ancora del tutto assorbita dal suolo era corsa verso una conca nella quale rimaneva ancora una piccola pozza nell'altro letto giaceva tutta avviluppata e sepolta nel lenzuolo e nella ruvida coperta una donna grande e robusta il suo volto era affondato nel letto i capelli ruvidi e biondi come paglia brillavano nella luce chiara accanto a lei e con lei ambrazzata come presa e strozzata nel lenzuolo sconvolto giaceva una giovinetta bionda come la madre con macchie grigio-azzurre sul volto cadaverico lo sguardo di bocca d'oro andava da un morto all'altro nel volto della fanciulla quantunque già molto sfigurato sarà ancora una trazza dello spavento disperato della morte nella nuca e nei capelli della madre che sarà avvoltolata tutta così violentemente nel giaciglio si leggeva il furore l'angoscia l'appassionata volontà di fuga specialmente la chioma indomita specialmente la chioma indomita non poteva assolutamente rassegnarsi alla morte nel volto del contadino c'era fierezza e tetro dolore si vedeva che era morto con pena ma con virile dignità il suo viso barbuto si profilava nell'aria rigido e fermo come quello di un guerriero disteso sul campo di battaglia questo atteggiamento calmo e fiero nella sua rigidità un po' sdegnato era bello certo non era stato meschino e codardo un uomo che aveva ricevuto la morte a quel modo ma commovente era il piccolo cadavere del fanciullo prono sul ventre attraverso la soglia il suo volto non diceva nulla ma la sua posizione lì sull'uscio e i suoi piccoli pugni stretti rivelavano molto un dolore smarrito un disperato difendersi contro sofferenze inaudite proprio vicino al suo capo c'era un foro praticato nella porta Boccadoro osservava tutto attentamente senza dubbio l'aspetto della capanna era orrendo e il puzzo di cadavere nauseava eppure tutto questo aveva per Boccadoro una forza profonda d'attrazione tutto era pregno di grandiosità e di destino così vero così non simulato qualcosa in tutto questo cattivava il suo amore e gli penetrava nell'anima fuori intanto Roberto cominciava a gridare impaziente ed inquieto Boccadoro aveva simpatia per Roberto ma in quel momento pensava quanto quell'uomo vivo fosse meschino nella sua paura nella sua curiosità in tutta la sua puerilità a paragone dei morti e gli non rispose si diede tutto alla contemplazione dei morti con quella strana mescolanza di interesse cordiale e di fredda osservazione che hanno gli artisti guardava attentamente le figure agiacenti e anche quella seduta le teste le mani l'atteggiamento in cui si erano irrigidite che silenzio in quella capanna incantata che odore strano e terribile come era triste e spettrale quella piccola dimora umana in cui covava ancora sul camino un resto di fuoco abitata da cadaveri tutta pervasa dalla morte presto a quelle tacite figure la carne sarebbe caduta dalle guanze e i topi avrebbero roso le loro dita quello che gli altri compivano nella bara e nella tomba ben nascosti ed invisibili l'ultima funzione la più misera la decomposizione e la putrefazione quei cinque la compivano lì in casa nelle loro stanze alla luce del giorno con la porta aperta incuranti senza pudori senza ripari bocca d'oro aveva già veduto più di un cadavere ma un'immagine simile del lavoro inesorabile della morte non l'aveva mai incontrata e se la fissò profondamente nell'anima finalmente le grida di roberto fuori dalla porta lo disturbarono usci il compagno lo guardò inquieto che c'è? domandò piano con la voce tremante di paura non c'è dunque nessuno in casa oh che occhi fai? ma parla bocca d'oro lo misurò con una fredda occhiata entra e guardati attorno è una curiosa casa colonica dopo mungeremo la bella mucca che è là avanti roberto entrò incerto nella capanna andò difilato al focolare scoprì la vecchia seduta e appena si accorse che era morta gettò un urlo tornò indietro di corsa con gli occhi sbarrati per amor di dio c'è una donna morta seduta al camino che vuol dire? perché non c'è nessuno vicino a lei? perché non la sepelliscono? oddio si sente già il fetore bocca d'oro bocca d'oro sorrisa sei un grande eroe roberto ma sei tornato indietro troppo presto una vecchia morta quando è seduta così su una seggiola è certo uno spettacolo strano ma se vai avanti due passi puoi vedere ancora ma se vai avanti due passi puoi vedere cose ancora più strane i cadaveri sono cinque roberto sui letti ce ne sono distesi tre e un ragazzino giace morto attraverso la soglia tutti sono morti l'intera famiglia è là irrigidita la casa è spopolata ecco perché nessuno ha monto la mucca l'altro guardò inorridito poi a un tratto gridò con voce soffocata oh adesso capisco anche i contadini che ieri non vollero lasciarci entrare nel loro villaggio oddio ora tutto mi si spiega è la peste per la mia povera anima è la peste bocca d'oro e tu sei stato tanto tempo là dentro e magari hai toccato i morti via non avvicinarti a me certo sei infetto mi rincresce bocca d'oro ma io devo andarmene non posso rimanere accanto a te stava già per darsene la gambe ma fu trattenuto per la falda del suo mantello di pellegrino bocca d'oro lo guardò severo con un muto rimprovero e lo tenne inesorabilmente stretto mentre quegli si dibatteva e si ribellava ragazzino mio disse in tono fra mi che volebbe fardo sei più intelligente di quel che si crederebbe forse hai ragione ebbene lo sapremo alla prossima masseria o al villaggio è probabile che in questa legione ci sia la peste vedremo se noi riusciremo a cavarsela ma lasciarti scappare piccolo Roberto non posso guarda io sono un uomo compassionevole il mio cuore è troppo tenero e se penso che tu potresti aver preso là dentro il contagio e qualora io ti lasciassi andare tu ti butteresti per terra in qualche campo a morire così tutto solo e nessuno ti chiuderebbe gli occhi e nessuno ti farebbe una tomba e ti getterebbe un po' di terra no caro amico la pietà mi stringe la gola dunque sta attento e mettiti bene in mente che quello che dico non intendo ripeterlo noi due siamo nello stesso pericolo può toccare a te o a me rimarremo dunque insieme o periremo tutti e due o sfuggiremo a questa maledetta peste se tu ti ammalerai e morirai sarai sepolto da me puoi star sicuro e se sarò io a morire allora fa quello che vuoi seppelliscimi o svignatela per me fa lo stesso ma prima caro non si scappa tenitelo bene a mente avremo bisogno l'uno dell'altro ed ora lingua in bocca non voglio dir nulla cerca un secchio da qualche parte nella stalla che possiamo finalmente mungere la mucca così avvenne e da quel momento boccadoro comandò e roberto ubbidì e fu bene per tutti e due roberto non tenta più di fuggire disse solo in tono conciliante per un attimo ebbi paura di te il tuo volto non mi piacque quando uscisti da quella casa di morti credetti che ti fossi preso la peste ma se anche non è la peste il tuo volto è cambiato era così terribile quello che vedesti là dentro non era terribile disse boccadoro esitando non vidi là dentro nulla fuorché quello che aspetta me te e tutti anche se non prendiamo la peste proseguendo il loro cammino si imbatterono presto dappertutto della morte nera che regnava nel paese parecchi villaggi non lasciavano entrare i forestieri in altri essi potevano camminare indisturbati per tutte le strade molti casolari erano abbandonati molti morti non sepolti imputridivano sui campi o nelle stanze nelle stanze muggivano le mucche affamate o non munte oppure il bestiame correva selvaggio per la campagna essi munsero e diedero da mangiare a più di una mucca e di una capra ammazzarono e arrostirono sul margine del bosco capretti e porcellini bevero vino e mosto preso in cantine ormai senza padrone avevano una buona vita regnava l'abbondanza ma non la gustavano che a metà Roberto viveva nella paura costante della peste e alla vista dei cadaveri si sentiva male spesso era tutto scombussolato dal terrore credeva continuamente d'aver preso il contagio teneva a lungo la testa e le mani nel fumo dei loro fuochi da bivacco ciò era ritenuto salutare fin dal sommo si tastava il corpo per sentire se non ci fossero buboni sulle gambe sulle brazza sotto le ascelle bocca d'oro a volte lo sgridava a volte lo schermiva non divideva la sua paura e neppure la sua ripugnanza andava attento e cupo per il paese della morte terribilmente attratto dallo spettacolo di quel grandioso morire l'anima piena di quel grande autunno e il cuore gonfio del canto della falce mietitrice talvolta gli riappariva l'immagine dell'eterna madre viso pallido e gigantesco con occhi di medusa con un sorriso grave pieno di dolore e di morte un giorno arrivarono ad una piccola città fortificata dalla porta un baluardo dell'altezza delle case correva tutti intorno alla cinta ma nessuna guardia stava lassù e nessuna vigilava la porta aperta Roberto si rifiutò d'entrare e scongiurò anche il compagno di non farlo in quel mentre udirono una campana e dalla porta della città uscì un sacerdote con una croce in mano seguito da tre carri due tirati da cavalli e uno da una coppia di buoi erano carichi di cadaveri un paio di inservienti avvolti in strani mantelli coi cappucci calati sopra il viso correvano accanto spronando gli animali Roberto pallido in volto si dileguò Boccadoro seguì a breve distanza i carri funebri avanzarono qualche centinaio di passi ed ecco non già un camposanto ma una buca scavata in mezzo alla landa deserta profonda non più di tre vangate ma grande come una sala Boccadoro si fermò e vide gli inservienti tirar giù i morti dai carri con pertiche e anghiere e ammucchiarli nella grande buca il sacerdote mormorando vi fece sopra il segno della croce e se ne andò i becchini allora accesero da tutte le parti di quella tomba fior di terra grandi fuochi che senza far parola ritornarono di corsa in città nessuno sicurò di coprire la fossa Boccadoro guardò dentro potevano esservi cinquanta o più cadaveri gettati l'uno sull'altro molti dei quali nudi qua e là un braccio e una gamba sporgevan rigidi contro il cielo quasi in atto d'accusa una camicia fluttuava lieve al vento quando Boccadoro tornò presso Roberto questi lo supplicò quasi in ginocchio di proseguire al più presto il loro cammino aveva ben ragione di supplicare nello sguardo assente di Boccadoro egli escorgeva quella fissità assorta quell'inclinazione alle visioni orrende quella terribile curiosità che gli era un fin troppo note non riuscì a trattenere l'amico Boccadoro solo s'avviò verso la città entrò per la porta incustodita e mentre udiva il suo passo di suonare sul selzato gli tornavano alla memoria tante altre cittadine e tante porte per cui era passato e ricordava le grida dei bimbi i giochi dei ragazzi i litigi delle donne il martellar dei fabbri sulle incudini sonore il fragore dei carri e tanti altri rumori delicati ed asperi che intrezzati alla rinfusa come in una rete annunciavano la varietà del lavoro delle occupazioni della gioia della socievolezza umana lì invece sotto quella porta aperta in quella via solitaria non un suono non un riso non un grido tutto ciaceva irrigidito in un silenzio di morte nel quale la melodia chiacchierina ad una fontana zampillante suonava già troppo forte quasi chiassosa dietro una finestra aperta si vedeva un fornaio in mezzo alle sue pagnotte e ai suoi panini o cadoro indicò uno di questi e il fornaio glielo spinse fuori con precauzione sopra un infornapane attese che l'altro gli mettesse il denaro sulla pala poi chiuse il suo finestrino indispettito ma senza proteste quando vide lo straniero addentare il panino e andare oltre senza pagare sui davanzali di una bella casa c'era una fila di vasi di terracotta che un tempo erano stati fioriti e ormai apparivano vuoti con qualche foglia secca spiovente da un'altra casa uscivano singhiozzi e grida lamentose di bambini ma nella strada attigua bocca d'oro vide dietro una finestra una graziosa fanciulla che si pettinava stette a contemplarla finché quella sentì il suo sguardo e a sua volta guardò giù arrossì e poiché egli le sorrideva amichevolmente anche sul volto acceso di lei passò lento e languido un sorriso quasi pettinata le gridò ella sporse il volto luminoso e sorridente dal vano della finestra non ancora malata domandò lui ed ella scosse il capo allora vieni con me fuori da questa città di morte andiamo nei boschi e avremo una buona vita e la interrogò con gli occhi non pensarci su troppo parlo sul serio gridò bocca d'oro sei in casa di babbo e mamma o a servizio dai stranei dai stranei dunque allora vieni bimba cara lascia morire i vecchi noi siamo giovani e sani e vogliamo passarcela bene ancora un po' vieni brunetta dico sul serio ella lo esaminò esitanta e stupita egli proseguì a passi lenti bighellonò per una strada deserta poi per un'altra e tornò indietro pian piano la fanciulla stava ancora alla finestra sporta in fuori e fu lieta di vederlo ritornare gli fece senno egli continuò lentamente il suo cammino e poco dopo ella lo raggiunse prima ancora ad arrivare alla porta con un piccolo fardello in mano e un fazzoletto rosso intorno al capo come ti chiami le domandò boccadoro lena lena vengo con te oh è così brutto qui in città muoiono tutti via via poco lontano dalla porta roberto di cattivo umore stava rannicchiato per terra all'arrivo di boccadoro balzò in piedi e spalancò tanto d'occhi alla vista della ragazza questa volta non si arrese subito protestò fece scene che si portasse fuori una persona da quella maledetta tana appestata e che si pretendesse da lui di tollerare una simile compagnia era più che pazzia era un tentardio ed egli si rifiutava non restava più insieme la sua pazienza era al limite boccadoro lo lasciò imprecare e protestare finché si acquietò bene disse se ne hai cantate abbastanza adesso verrai con noi e sarai contento di avere una compagnia così graziosa si chiama Elena e resta con me ma ti voglio dare anche una gioia Roberto ascolta per un po' di tempo vogliamo vivere in pace e in buona salute e star lontani dalla pestilenza ti cercheremo un bel posticino con una capanna vuota o ce ne costruiremo una da noi io e Elena saremo il padrone e la padrona di casa e tu sarai il nostro amico e vivrai con noi vogliamo avere un tantino di vita serena e piacevole d'accordo oh sì Roberto era pienamente d'accordo purché non si pretendesse da lui chiedesse la mano a Elena o toccasse le sue vesti no disse boccadoro questo non si pretende ti anzi sei veramente proibito di mettere un dito addosso a Elena che non ti passi neppur per la mente ma sarono così in tre da prima in silenzio poi a poco a poco la ragazza cominciò a parlare ad esprimere la sua gioia di rivedere il cielo gli alberi e i prati era stato così orribile là dentro nella città appestata da non dirsi e cominciò a raccontare e a liberarsi l'animo delle immagini triste e mostruose che le era toccato vedere narrò diverse storie tutte brutte la piccola città doveva essere un inferno dei due medici uno era morto l'altro andava soltanto dai ricchi e in molte case i morti imputridivano perché nessuno li andava a prendere in altre i becchini rubavano crapulavano bordellavano e spesso insieme coi cadaveri tiravano fuori dai letti anche i malati ancora in vita e li gettavano sui carri da boia e poi insieme coi morti giù nelle fosse tante cose orrende aveva da raccontare nessuno la interrompeva roberto ascoltava inorquidito e avido boccadoro rimaneva silenzioso e indifferente lasciava che tutto quell'orrore si riversasse e non diceva nulla e che mai si poteva dire infine lena si stancò il fiume di parole si inalidì allora boccadoro si mise a camminare più ad agio e prese a cantare sommesso una canzone di molte strofe e ad ogni strofa la sua voce si faceva più piena lena cominciò a sorridere e roberto ascoltò con piacere e meraviglia fino allora non aveva mai udito boccadoro cantare tutto sapeva fare quel boccadoro eccolo che ora camminava e cantava quell'uomo eccezionale cantava con arte e perfettamente intonato ma in sordina già alla seconda canzone lena prese ad accompagnarlo a mezza voce poi a voce spiegata si avvicinava la sera lontano oltre la landa si stendevano i boschi neri e dietro quelli basse montagne azzurre che diventavano sempre più azzurre come per l'intensificarsi di una luce interiore ora lieto ora solenne il canto accompagnava il ritmo dei loro passi azzurre